Continuano gli appuntamenti qui al Salone Internazionale del Libro di Torino. Sono in compagnia di una giovane autrice esordiente, Marcella Variani, che è venuta a trovarci oggi pomeriggio. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Marcella è un'attrice brasiliana e questo è il suo primo libro, pubblicato in Brasile, tradotto qui in Italia, Luna, una bambina filosofante. Di cosa parla questo libro? Questo libro parla di Luna, una bambina filosofante, che è una bambina che rappresenta in fondo il nostro bambino interiore. Ecco, perché tutti noi abbiamo un bambino interiore. Giusto, sì. E lei rivolge una serie di domande che sono apparentemente semplici, ma nascondono comunque un significato più profondo. Nascondono un mondo di sorprese che vi invito a conoscere. La cosa che mi ha stupito, leggendo questo libro, è non solo il significato a cui facevamo riferimento, ma anche delle immagini, che sono delle immagini veramente molto, molto belle. Ecco, facciamole vedere. Però c'è un aneddoto, insomma, le hai realizzate tu insieme a chi? Insieme alla mia nonna, brasiliana. Quindi è anche un ritorno alle origini per te, in qualche modo. E quello che mi ha colpito, inoltre, è una frase che è presente anche sulla quarta di copertina, che è Ogni essere porta in sé una bellezza unica. Dov'è il bambino che vive dentro di noi? Ecco. Eccola. Questa è una domanda molto profonda che mi sono fatta mentre scrivevo questo libro, perché è stato proprio un ritornare a chi ero io, a una ricerca interiore che mi ha fatto vedere essenzialmente questo, che ognuno di noi ha una unicità, ha qualcosa di speciale che se non dico io nessun altro potrà dire. Quindi il ritorno e il ritornare all'essere bambino è questo, riscoprire chi siamo noi e chi è il bambino interiore, chi sono io, alla fine, no? Molto vero. Tra l'altro, vorrei ricordarlo, il gioco del mondo è proprio lo slogan del Salone Internazionale del Libro di quest'anno. Hai avuto modo di fare un giro per gli stand? Cosa te ne pare di questa esperienza? Per me è un'esperienza unica perché è la prima volta che vengo anche a Torino e la prima volta che mi trovo qui al Salone, è bellissima, è bellissima, sono molto felice di essere qua e credo che è veramente qualcosa di molto ricco e particolare, molto bello. Tu sei molto giovane, qual è il tuo rapporto con la scrittura e se hai qualche suggerimento per chi come te vuole iniziare a scrivere? Esatto. Il mio rapporto con la scrittura è essenzialmente lo scrivere e tutto quello che mi fa sentire viva e quello che fa il mio cuore vibrare e cercare di trasmettere questo a chi legge. Quindi questo è stato il mio primo libro e... E ci auguriamo che ce ne siano altri. Bene. Io allora ricordo ai nostri lettori Luna, una bambina filosofante e il libro di Marcella Variani che potete trovare sul sito www.nepedizioni.com e ti ringrazio per essere stata con noi. Grazie.